E' appena terminato l'incontro fra Matese e Sora con la vittoria degli ospiti per 1-0, ci rechiamo negli spogliatui per sentire l'opinione di qualche protagonista. Partiamo dal risultato, è giusto o no? Tu l'hai visto? Secondo me no. Manco secondo me, però come abbiamo sempre detto accettiamo il risultato del campo. Noi al primo tempo abbiamo avuto tre occasioni nitide per passare in vantaggio. La squadra avversaria non l'aveva tirato mai in porta, abbiamo preso gol su un cross, su una palla. C'è la responsabilità del portiere purtroppo, non oltre tanto. Il portiere sbaglia come sbagliano gli attaccanti, come sbagliano i centri di cammini, come sbaglia la tenatura. Quindi non dobbiamo colpevolizzare nessuno. Ci sono stati poi quei dieci minuti dopo che abbiamo preso gol che non mi sono piaciuti perché abbiamo sbandato. Ci siamo un attimo disuniti, abbiamo dato la possibilità, facendo degli errori grossolani, soprattutto da parte dei giocatori esperti. Abbiamo dato la possibilità alla squadra avversaria di chiuderla e non ci sono riusciti. Poi abbiamo avuto anche un altro paio di occasioni, il sapataggio sulla linea del giocatore loro a portiere battuto, il tiro di Bragaglia, se non sbaglio, chi ha sfiorato il palo. Alla fine insomma il risultato di parità, penso che ci stava tutto. Ecco, un'esclusione di Napoletano. Ma non è un'esclusione, abbiamo tre partite in una settimana. Napoletano non è che c'è la maglia numero 10 stampata sulle spalle. È uno dei venti giocatori che abbiamo. Quando non ho fatto giocare Orlando, quando non ho fatto giocare altri calciatori, una domanda non me l'avete mai fatta, non capisco perché me la fate adesso per Napoletano. Allora, la prossima comincia un tour de force difficile, no? Sì, lo sappiamo, abbiamo detto prima, abbiamo tre partite in una settimana e proprio per questo c'è bisogno di tutti, c'è bisogno che tutti quanti siano a disposizione e che tutti quanti facciano il proprio dovere.